Rio Nord e Castiglia nella provincia spagnola di Zamora e Rio de Honor nel distretto portoghese di Braganza hanno la particolarità di essere un unico paese ma un pezzo in Spagna e un pezzo in Portogallo. Il nome è simile ma qui si parlano due lingue, ci sono due chiese e addirittura due fuse orari diversi, ma in realtà il luogo è uno solo. José Antonio vive a Rio de Honor in Portogallo ma il suo garage è in Spagna e lì vive pure suo fratello Manuel. La recente chiusura delle frontiere imposta dall'emergenza Covid qui pone molti problemi. Nella zona spagnola non c'è un negozio di alimentare, il panettiere ora vende i suoi prodotti sul confine. Il panettiere viene qui, aspetta un po' con pazienza e noi veniamo a comprare. Speriamo che non si contagi perché ha un'attività dei dipendenti, si muove lui che è il più anziano. Gli abitanti dei due paesi possono attraversare la frontiera a piedi ma il passaggio per le auto è chiuso al traffico. La frontiera aperta due ore e due giorni alla settimana e solo per i mezzi agricoli. I cittadini di Rio de Honor e Rio Nord e Castiglia devono convivere con una situazione ai confini dell'assurdo. Grazie.